Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram, ed in podcast su Spotify. Grazie a tutti. Non lo so perché, questa non mi sembra tanto un'ambientazione da barca, mi sembra più il tuo appartamento, ma insomma detto questo… Non lo so, così avevo dato questa cosa, però tutto può sempre essere. Allora, non lo so perché qui tu mi hai parlato di barca, io faccio proprio un gioco di associazioni, barca ricco, ricco potere, potere, sistema, sistema… P2, per esempio, che è il nostro argomento fulcro di oggi. Insomma, la scomparsa di Berlusconi ha riportato in auge tutta una serie di discorsi e di situazioni che lo hanno visto protagonista negli anni, non solo lui chiaramente, ma allacciandolo alle vicende importanti del nostro paese. Focalizziamoci un attimo proprio sulla P2 oggi e su questa storia e perché ha un aspetto così deteriore per quello che ci riguarda. La P2 è una sorta di governo ombra che ha governato realmente l'Italia per decenni, che ha influenzato in maniera mefistofelica la storia mondiale per decenni, che ha permesso agli Stati Uniti d'America di portare avanti politiche in tutto il mondo totalmente contrarie a ogni regolamento internazionale, ogni legge internazionale e ha, diciamo, scambiato radicalmente l'essenza stessa del nostro paese, perché la P2 non è solamente una loggia massonica in cui si incontravano delle persone e prendevano delle decisioni, insomma, di vario genere, o si facevano dei favori. La P2 è un progetto politico e questo progetto politico è stato espresso in un programma politico. Il programma politico che si chiama Piano di Rinascita Democratica, che io sono stato, insieme a altre persone ovviamente, l'ultima persona a intervistare i Ciogelli, l'intervista, nell'intervista lui dice chiaramente il Piano di Rinascita Democratica, ovvero il suo progetto politico, è stato scritto da 5 persone, lui non si è basato, insomma, si è rifiutato di dire il nome delle altre 4 persone, però lui ha detto che è stato scritto da queste 5 persone, di cui uno ovviamente era lui. E questo progetto politico, non supposizioni, insomma, progetto alla mano, leggendo quello che c'è scritto, come dovrebbe essere l'Italia, è praticamente realtà. Cioè tranne alcuni, considerate che stiamo parlando di, non di un elenco come fu per esempio con il Movimento 5 Stelle, i 10 punti del nostro programma, è un libricino, insomma, sono alcune decine di pagine scritte, ecco, se uno legge quelle decine di pagine scritte, troverà sì e no una, due pagine su, che ne so, 40, che non corrispondono alla nostra attuale realtà in Italia. Tutto il resto è stato approvato, non è approvato perché uno lo immagina, sono leggi dello Stato, leggi o modifiche della Costituzione dello Stato e quindi la P2 vuol dire anche l'Italia come oggi. Quando abbiamo fatto l'insieme l'intervista a Licio Gelli, sono venute fuori delle cose molto interessanti, tra l'altro tu lo hai ancora una volta sottolineato e poi magari ci ritorniamo. Però è stata fondata molti, molti anni fa la P2 nella sua versione originaria. Quella P2 originaria aveva però un'altra mission, diciamo, per riferirci un po' come si fa nei termini aziendali, cioè un'altra visione delle cose. Intanto chiediamo, la loggia Propaganda, perché così si chiama, nel caso specifico Propaganda 2, è una loggia che esiste dalla fine dell'Ottocento, è una loggia peraltro che ha avuto una sua storia, poi è sparita e questa loggia è stata presa dagli americani, cioè dagli Stati Uniti d'America, dai massoni americani e a un certo punto del dopoguerra è stata rinviata a oltreatlantico, cioè è stato detto adesso questa sarà la loggia più importante di tutte che è quella che gestirà la nostra politica estera, politica estera statunitense, perché lo scopo della loggia Propaganda era questo. Dopodiché c'è stato un tizio, un massone, come succede nelle loggie massoniche, diventavo lui il grande maestro di questa loggia, era una persona che non faceva proprio al caso degli americani, cioè non c'entrava come il cavolo a merenda, insomma, in questa loggia specifica, e allora ha detto, beh, bisogna, però noi vogliamo una loggia Propaganda che sia una loggia Propaganda a gestire questo, e come succede negli indirizzi email, no? Cioè francofragassi.com è occupato e allora il francofragassi 1, poi c'è francofragassi 2 e così via. E allora hanno creato una nuova loggia, l'hanno chiamata Propaganda 2, cioè Propaganda 2 non è un nome diciamo voluto, è un nome dovuto, perché la loggia Propaganda era già occupata da questo tipo e quindi hanno creato questa loggia Propaganda 2 e allora hanno preso Licio Gelli, proprio l'hanno preso fisicamente e l'hanno fatto capo di questa loggia. Quindi Licio Gelli non è un massone di carriera, è un massone imposto dagli americani, probabilmente Licio Gelli già aveva, era dentro il meccanismo massonico, ma questa è un'altra storia, anzi sicuramente era dentro il meccanismo massonico, però è stato un uomo preso e imposto dagli americani e gli è stato dato, come Dicio la mission aziendale, gli è stato dato un programma che doveva seguire, dice tu devi fare questo, soprattutto tu devi fare quello che ti diciamo noi, il programma in sintesi è questo qui, dopodiché in quello che ti dobbiamo fare noi c'era la visione internazionale delle cose, perché la loggia Propaganda 2 serviva per mettere in pratica, per fare la cinghia di trasmissione tra ciò che pensava il Dipartimento di Stato e la Casa Bianca, quindi la politica estera degli Stati Uniti e il resto del mondo per quanto riguarda la politica non raccontabile, cioè tutte le cose del mondo di sotto, stragi di Stato, guerre, squadroni della morte, sequestri di persone, tutte quante queste cose qui, atti terroristici, tutte queste cose qui rientravano nell'ambito, negli skills, visto che ho usato i termini inglesi della loggia P2, ecco, e questo diciamo era il, la loggia P2 esisteva per questo, esisteva anche per l'Italia, essendo una loggia italiana, per tutto il mondo e anche per l'Italia e Gelli si occupava di tutto, anche della parte italiana, dopodiché Gelli ha sviluppato insieme a altre 4 persone un programma politico, l'ha fatto successivamente, ma non è che l'ha fatto così, l'ha fatto perché gli Stati Uniti hanno detto di farlo, l'ha fatto perché più o meno ha tradotto nel suo pensiero, pensiero da fascista convinto, bisogna ricordare questa cosa, Gelli era un fascista della Repubblica e salò un ufficiale, era un fascista convintissimo, anzi era un fascista anche da prima e lo è rimasto per tutta la vita, non ha mai negato il suo passato, anzi lui ancora lo era, per cui da fascista convinto e da uomo, proprio del pedina del Ministero degli Esteri degli Stati Uniti, ha fatto il programma che pensava fosse più giusto per lui, per l'Italia fascista e per gli Stati Uniti d'America e queste cose sono realizzate, quindi dire, ovviamente è una forzatura, però dire che l'Italia di oggi è un'Italia fascista, fascista nel senso più deleterio del termine, capiamoci, fascista della Repubblica, quella fascista che ha fatto le stragi, perché magari sono degli spedatori che dicono, ah ma io sono di destra, no non c'entra niente, una cosa è la destra, una cosa è il fascista, che è una cosa molto specifica, che per 20 anni ci abbiamo avuto in dittatura, ecco, quell'idea lì è l'idea che si è trasformata nell'Italia di oggi ed è una cosa pratica, perché uno può dire, no guarda però è una tua interpretazione, vatti a prendere il piano di rinascita democratica, leggilo e poi dimmi quali punti non corrispondono all'Italia di oggi. Sì sì, certo, tra l'altro organizzazione dichiarata criminale, guidata da una persona altrettanto criminale e dubbia, come quella che abbiamo detto fino adesso, abbiamo delineato adesso e anche precedentemente quando abbiamo fatto una puntata dedicata proprio su Licio Gelli, della quale ci siamo occupati con te, tra l'altro lui è stato anche condannato per reati di un certo peso e di una certa rilevanza, quello che mi chiedo è se si aveva il sentore in quegli anni che ci fosse un altro governo ombra, così come lo hai descritto tu, cioè se fosse chiaro non tanto all'uomo comune, all'uomo della strada, ma se fosse chiaro in certi ambienti che si fosse in contatto con un'altra realtà. Allora, nulla di ufficiale, però se tu parli di sentore credo di sì, cioè ci sono molte inchieste alla magistratura, molte inchieste giornalistiche, molte dichiarazioni anche di politici che facevano capire che l'Italia non era un paese indipendente, non era un paese, il governo italiano e l'amministrazione pubblica italiana, perché la P2 non è una questione politica, è una questione anche amministrativa, cioè Gelli rivendicava il fatto che tutti i direttori generali dei ministeri, i capi dei servizi segreti, i capi delle forze armate, quelli della polizia e così via, erano tutti membri della loggia P2, quindi è una cosa che andava molto al di là della politica. E in molti hanno accennato, la buttavano lì, si capiva che c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa di strano nella gestione dell'Italia. E poi questa cosa è stata evidente quando hanno scoperto gli elenchi della P2, ovviamente tutti ci sono rimasti di sasso, però è stato quasi un disvelamento di qualcosa che molti già sospettavano, gli hanno dato semplicemente la forma a questa cosa. Sì, perché quando prima ti dicevo se si aveva il sentore, in realtà era più che altro proprio una certezza, cioè se si aveva la certezza che ci fosse una organizzazione, capisci? Cioè non semplicemente un sentito dire, mi sembra che dato che noi comunque abbiamo sempre questa sorta di K sopra la testa americana, allora possiamo essere manipolati da, ma che si avesse proprio la certezza che ci fosse una associazione che operava in tal senso, era questo? Sì, nel senso c'era chi la buttava semplicemente, ho il sospetto che andava un po' oltre quel sospetto, nessuno aveva, cioè era talmente assurdo quello che poi ci è stato svelato, oggi ci pare normale, ma insomma all'epoca tutte queste cose non si conoscevano, stavo parlando degli anni 70, anni 60, quindi era talmente assurdo il panorama che ci è apparso nel mio 181 quando sono stati sequestrati gli elenchi della P2, quando è stato Dice Ogelli e così via, che non ci si immaginava fosse così. Sì, senti, quando tu parli di questi elenchi e in questi elenchi ogni tanto c'è anche qualche nome che a noi ci risuona, insomma televisivo, politico etc., come mai non c'è stata nessuna ripercussione ancora una volta da parte dell'uomo comune nei confronti di persone che hanno fatto parte di un'organizzazione criminale come questa? Beh no, chiediamo, qualche ripercussione c'è stata perché molti hanno perso il loro lavoro, alcune cose sono cambiate. Però diciamo non c'è un giudizio di merito, non so come esplicitare questa cosa bene, cioè è un po' come dire vabbè, ma che problema c'è, è un po' all'italiana, no? Per esempio di due personaggi della televisione, come Maurizio Costanzo che ha fatto, anzi era famoso, ma non fino a quel punto poi è diventato la star della televisione italiana, oppure colui che è diventato il suo mentore quasi, oppure non si capisce se è il contrario, ovvero Silvio Berlusconi, erano in quegli elenchi e anzi non solo non gli ha dato nessun danno questa cosa, ma forse ne ha cresciuto il potere. Quindi sì, effettivamente noi tendiamo a dimenticare facilmente quello che sono stati i vari personaggi, la storia la dimentichiamo, abbiamo anche dimenticato quello che è stato il fascismo, cioè si dimentica tutto, noi abbiamo avuto 20 anni di dittatura, 20 anni di dittatura in cui la gente veniva picchiata, sequestrata, buttata in carcere, alcuni venivano uccisi, altri mandati al confino, in cui se contraddicevi il capo non facevi garriera, se non è iscritto al partito fascista non potevi fare certi lavori, e perfino se volevi giocare nella nazionale di calcio e quindi voler andare al mondiale, anche se eri un campione non ci saresti mai andato senza essere fascista. Noi ci lamentiamo dell'Italia di oggi, almeno tanti si lamentano, ma non c'è libertà, non c'era libertà, non capisco come si possa avere in qualche modo nostalgia di quello che c'è stato, eppure poi da un certo punto in poi abbiamo cominciato anche a andare oltre le leggi razziali, ma in realtà eravamo andati oltre anche da prima, la guerra di Etiopia è stata una cosa mostruosa, noi diciamo i nazisti, i tedeschi, ma noi con le guerre di Etiopia abbiamo utilizzato i gas, abbiamo gasato migliaia di persone, abbiamo torturato migliaia di persone, abbiamo fatto delle cose massacri spaventosi, è tutto normale, gli italiani, perché uno degli esempi italiani è brava gente, ma insomma gli italiani nei Balcani sono macchiati i delitti mostruosi, hanno fatto polizia etnica villaggio per villaggio, tant'è che quando, una cosa che si ricorda sono queste famose foibe, che i partigiani in dito hanno preso un sacco di italiani e li hanno fatti fuori, in maniera orribile, l'Italia non ha mai fatto nulla, non perché c'era il bonton, non ha mai detto una parola, questo fino per 40 anni, anzi per 50 anni non ha detto una parola su questo, perché quello che aveva fatto l'Italia a loro era talmente mostruoso, che Tito li ha proprio detto, esiste un'ampissima documentazione su questo, gli italiani hanno detto, ma voi avete massacrato, Tito è andato a loro, benissimo, questi sono i reati, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità che voi avete commesso, che facciamo? Siamo tutti zitti e siamo tutti buoni, oppure volete rompermi le strade sulle foibe? e l'Italia ha detto, sto zitto, meglio non dire nulla, allora l'Italia è stata, noi abbiamo avuto 20 anni di questa roba e abbiamo dimenticato quelli che sono state queste cose, abbiamo dimenticati e dopodiché dimenticandoli, al di là della cosa macchiettistica, sì per quando c'era Mussolini e i treni arrivavano in orario, e poi sono dimostrato che non era così, ma non ha importanza, e tutta una serie di altre cose, ha fatto del bene e tutto il resto, che è normale, perfino Hitler ha fatto del bene alla Germania, dal punto di vista economico e tante altre cose, quindi non è, cioè, al di là di queste cose qui, noi abbiamo incominciato, avendo dimenticato tutto, abbiamo fatto scorrere la cosa come se nulla fosse, non risolvendola, ma semplicemente andando avanti, come un bambino che viene abusato da piccolo, per vari motivi, non è nulla, e poi da grande diventa un pedofilo, e noi è quello che siamo diventati, cioè, l'Italia, vediamo, noi abbiamo in questi tre anni, ci siamo lamentati di tantissime cose, nessuno ha preso il piano di rinascita democratica fascista, e l'ha messo di fronte alla nostra Costituzione di oggi, non quella scritta nel 48, non quella, non quella lì che è diversa, e stava modificata tante volte nella Costituzione, non quella lì, quella di oggi, nessuno ha preso il piano di rinascita democratica e le leggi di oggi, nessuno ha preso il piano di rinascita democratica e i regolamenti di oggi, e la consuetudine di oggi, e il sistema informativo di oggi, ha detto, caspita, ma so la stessa cosa, questo l'ha fatto un seguace di Mussolini, agli ordini di un tizio, il capo della CIA, Allen Dallas, che era un nazista convinto, amico di Adolf Hitler, cioè l'ha fatto questa persona qui, e l'Italia è questo, poi non ci possiamo meravigliare se improvvisamente arriva il Green Pass e tutto il resto diventa una normale, le mostruosità che sono arrivate, non è che sono arrivate dal nulla, perché il Green Pass lo siamo inventati noi italiani, bisogna dichiarire questa cosa, allora noi siamo inventati il fascismo e poi siamo inventati il Green Pass, che è la stessa cosa, cioè noi veniamo da lì, o facciamo i conti con il nostro passato, ma tutto il passato, smettiamo di dimenticarci le cose, e quindi Berlusconi non è un santo, Berlusconi ha fatto delle schifezze, poi era una persona simpaticissima, era divertentissima, era capacissimo a scegliere le persone, sapere selezionare, ha fatto un grandissimo dirigente di calcio, quello che pare a voi, però è stato questa, cioè bisogna raccontare quello che è stato, sì, certo, chiaro, se uno non fa i conti con queste cose qui, e poi si ritrova oggi e dice, ma perché è successo questo? Perché però si tende sempre a fare questa opera di pulizia, a ricordare solo quello che ci fa comodo, ricordare, a dimenticare quello che oramai abbiamo superato, vedila anche da un punto di vista di quello che abbiamo vissuto, come dicevi tu in questi tre anni, il fatto che ora siamo ritornati a una sorta di normalità, tra virgolette, e che comunque la nostra vita più o meno è ripresa, così come era precedentemente, già questo fa sì che la situazione che abbiamo vissuto si allontani tantissimo da quello che oramai sono le cose che vorremmo, le cose che pensiamo nella quotidianità. Sì, purtroppo è così, e purtroppo noi abbiamo questa tendenza, che non vuol dire, cioè uno può anche perdonare, anzi io dico che bisogna perdonare, ma è una cosa diversa, uno perdona qualcosa di, per perdonare devi avere la coscienza di che cosa stai perdonando, sì, e invece no, noi semplicemente abbiamo dimenticato, abbiamo dimenticato riproponendo nuovi ricordi, come succede? Che tu appunto sei stato abusato da piccolo, ti sei dimenticato la cosa, poi c'è qualcuno, perché i nostri ricordi non sono, questa è una cosa scientifica, insomma non sono sempre ricordi veri, spesso sono ricordi indotti dai racconti degli altri, specialmente quando eravamo piccoli, che quindi non abbiamo dei ricordi veri, quindi mescoliamo le cose, ecco noi abbiamo fatto questo, abbiamo dimenticato, e dopodiché abbiamo questi strani ricordi, in parte indotti, in parte no, in cui è stato tutto mescolato, le abbiamo buttate in caciara, e dopodiché non ci sorprendiamo che oggi accadono certe cose, ci sorprendiamo che l'Italia è fatta in un certo modo, che ci sono delle limitazioni di democrazia, che i media sono quello che sono, c'è un motivo perché siamo al 57esimo posto nel mondo per libertà di informazione, non è che è così, perché gli italiani sono tradizionalmente meno liberi quando scrivono, c'è un programma politico che è stato imposto, se no non si capiscono queste cose, se non si capiscono riesci nemmeno a combatterle, combatti contro la proiezione della realtà, non contro la realtà, è come se combattessi, è come Peter Pan che combatte contro la sua ombra, noi siamo la stessa cosa, combattiamo contro l'ombra della realtà, non contro la realtà, e quindi l'ombra la possiamo anche sconfiggere, ma la realtà resta lì. E' anche vero però Franco, che molto spesso quando la gente comune appunto vuole informarsi, al di là di questi spazi di libera informazione, che trova soltanto sul web, è veramente molto molto complicato, perché già a partire, e questo lo diciamo ogni volta, dai libri di scuola, è tutto manipolato, e quindi diventa ancora più difficile, perché già devi uscire da un certo meccanismo, da una certa forma mentis, devi cercare delle fonti alternative, e devi comprenderle, insomma quasi titanico. Questo è il piano di rinascita democratica, andatevelo a vedere, scoprite che questo diceva Licio Gelli, 40-50 anni fa, quando ha scritto il piano di rinascita democratica, cioè è esattamente questo. E forse bisogna dire che questo piano è riuscito, eh? Questo piano è riuscito quasi perfettamente, cioè Licio Gelli è un genio, e ha portato a casa il suo colpo di Stato, perché in qualche modo, aveva in mente un'Italia non democratica, e l'ha realizzata, quindi l'ha realizzata in maniera apparentemente democratica, ma l'ha fatto un colpo di Stato, e noi l'abbiamo lasciato fare, e però molte delle cose che adesso, adesso che diciamo sono avvenute negli ultimi 30 anni, comunque, come tu hai ricordato, negli anni 80, quando ancora non stavano avvenendo quelle cose, perché il piano di rinascita democratica è iniziato diciamo a un certo punto della sua strada a mettersi in moto, o solamente poche cose c'erano, c'era qualche cosa, ma erano poche, e negli anni 80, giustamente mi hai fatto ricordare te, i personaggi che facevano parte di quella lista P2, è come se non fosse accaduto nulla, ma all'irà di Berlusconi e Maurizio Costanzo, ce n'erano anche molti altri, che hanno fatto le fortune, parliamo di altri giornalisti, di Bella, il direttore del Corriere della Sera, il Corriere della Sera era il giornale della P2, proprio di proprietà della P2, e lo è stato per molto tempo, il suo direttore di Bella era uno che stava nella lista P2, quindi era un P2ista anche il direttore di Bella, il figlio di Di Bella è stato direttore del TG3, non so per quanto tempo, è stato inviato a New York, è stato quello, è stato quell'altro, adesso i figli non è che devono le colpe dei padri cadere su quelle dei figli, però è come se non fosse accaduto nulla, cioè è questo il punto, cioè io non ho mai sentito il Di Bella figlio a dire mi vergogno di mio padre, è mostruoso quello che ha fatto mio padre, ma è semplicemente non se ne è proprio parlato. Grazie di queste riflessioni che abbiamo fatto con te oggi, spero di ritrovarti presto, magari sarai proprio in uno yacht, mi sono sentito il Savonarola oggi, non è il mio ruolo quello di fare il Savonarola, però mi sono sentito. Va benissimo, comunque per tutte quante le informazioni, anche su quella famosa intervista a Licio Gelli, della quale parlavamo prima e di tutti quanti i tuoi libri, mi raccomando, rivolgetevi all'autore, perché insomma anche in piena estate lui lavora sempre, lo si vede dal suo aspetto, non ha il tempo nemmeno di farsi la barba, francofracassi1 a numero, chiocciolagmail.com è il suo sito, è la mail di riferimento per… Sì, è un'intervista su Gelli, che si chiama Gelli l'ultima intervista, è un'intervista di 40 minuti, che invito a vedere anche per il personaggio, perché Gelli è uno simpatico, bisogna capire le cose, uno parla sempre, perché Berlusconi è, Gelli è uno simpatico, forse anche più simpatico di Berlusconi, Gelli è uno simpatico, Oh, sono tutti empatici, ma com'è? Eh ma se no non riesce a fare quelle cose, se sei tutto uno, tipo Draghi, che sembra il corvo nero sul trespolo, non è che lui riesce per altri motivi, se uno riesce a fare quello che fanno questi personaggi, devi essere una persona di grandi capacità umane, e Gelli, guarda, lo notavo, cioè l'avevo sempre pensato, ma ho fatto un evento recentemente, proprio sull'intervista a Licio Gelli, quindi hanno proiettato l'intervista, c'era la sala piena di gente, che guardava questa intervista, e mi pare la prima o la seconda domanda, si alza una signora e dice, ma com'è sta storia a me? Mi stava tanto simpatico mentre parlava, ero un vecchietto così a modo, mi ispirava fiducia, simpatia, volevo abbracciarlo, perché è questo, bisogna capire, non è che il volto del male assomiglia ad Adolf Hitler, il volto del male assomiglia a Licio Gelli, assomiglia a Silvio Berlusconi, assomiglia ai personaggi che sono simpati, Maurizio Costanzo, quello che parlava così, sono personaggi che sono loro. Esclusi noi che siamo simpatici, ma onesti e virtuosi. Oggi dopo tutto quello che ho detto, mi sa che mi odieranno in tanti, però... Non credo, come sempre, grazie a Franco Fracassi, buona giornata, ciao! 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 Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni, con una donazione, Fabbrica della Comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadelacomunicazione.it, anche su Telegram e sui principali social, ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media e verità? E quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, tv e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato e-book.